Allora, ora cambiamo strumento, è la volta di un giovanissimo violinista, Vincenzo Di Gironimo. Pensate a questo ragazzo studia violino da soli quattro mesi e stasera qui si esibisce per la prima volta con questo strumento. Ve lo presento. Acompagnato da Mestro Fabio Bianco. 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 che ci seguirà di Ramon d'Egiziana e Chauvin è il provviso numero uno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti